Buongiorno alla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma sul versante Emiliano della panoramica si segnalano rallentamenti per il ripristino di un incidente tra Sassomarconi e Rioveggio. Oggi sabato 7 settembre a Lucca si terrà il Toscana Pride. Info sulle modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico sui canali social. Sciopero dei treni dalle 3 di domani fino alle 2 di lunedì 9 settembre non sono previste fasce di garanzia. Lunedì invece sciopero degli autobus dalle 14.30 alle 22.30 e della tramvia Firenze dalle 9.30 alle 17. Quest'ultimo con possibilità di disservizi per tutto il giorno. Ed è tutto buon viaggio. Grazie a tutti.